E' stato siglato lo scorso venerdì mattina 18 maggio il protocollo d'intesa tra il Comune di Agropoli e Vivi Cilento. Entrambi gli attori attraverso la firma del protocollo si sono impegnati a perseguire in modo condiviso e coordinato ed ognuno per quanto di propria competenza un'articolata strategia di azione finalizzata alla promozione e alla valorizzazione del territorio, attivandosi nel reperire tutti i possibili strumenti di finanziamento delle iniziative da porre in essere. Dal 1 giugno 2018 la società cooperativa attiverà un infopoint nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Non sarà solo un punto informazioni turistiche ma offrirà una serie di altri servizi, emissione ticket di accesso ai monumenti cittadini, ticket per attrazioni turistiche, organizzazione escursioni turistiche via mare e terra, coordinamento per le strutture turistico ricettive e aderenti. Inoltre sarà anche un green point che offrirà noleggio e bike, ape calessino elettrico e in collaborazione con Cilento for All effettuerà il trasporto dei disabili verso strutture turistiche, attrazioni turistiche, spiagge ed altri luoghi. Il comune di Agropoli fornirà gratuitamente 130 metri quadrati di suolo pubblico a vivicilento per la permanenza del chiosco e le attività collegate per una durata di 5 anni. Agevoliamo, afferma il sindaco Adamo Coppola, tutte quelle associazioni e organizzazioni che puntano a promuovere e valorizzare il nostro territorio. Quello che aprirà i battenti ad Agropoli, afferma invece Emanuele Ruocco, presidente di Vivicilento, sarà un infopoint green che oltre a fornire informazioni turistiche e tutti i servizi dedicati per coccolare il turista, in collaborazione con SICME, fornirà biciclette e ape calessino elettrici per i mesi estivi.